A Palermo diversi ragazzi, la maggioranza di nazionalità ghaniana, vengono aiutati nello svolgimento dei compiti a casa e nella preparazione agli esami. Il progetto, sono brava anch'io, ha infatti lo scopo di renderli autosufficienti nello studio, alleggerendo i genitori stranieri dal difficile compito di seguire i figli in un percorso di studi ancora per loro molto difficile. Grazie all'otto per mille della Chiesa Adventista, i volontari del progetto possono accogliere i ragazzi in un luogo adatto alle attività didattiche. Nella tua dichiarazione dei redditi ricordati di destinare il tuo otto per mille firmando nell'apposita casella Unione Chiese Cristiane Adventiste del settimo giorno. Domani, il 16 luglio, sul Rai 2 andrà in onda una puntata speciale di Protestantesimo, che avrà come tema unico la Chiesa Adventista. Trenta minuti per conoscere la storia, il pensiero e la vita della Chiesa Adventista. Attraverso le interviste con gli ospiti, il pubblico in studio e a casa potrà fare la conoscenza della Chiesa in Italia, il suo credo, il suo punto di vista sull'etica e sulla salute. Fallo sapere ai tuoi amici. Ricorda, Rai 2, domani 16 luglio e lunedì 17 a luna di notte e poi replica domenica 23 alle ore 7.30 circa del mattino. Da lunedì sarà sempre visibile sul sito www.protestantesimo.rai.it. Dal 6 al 20 agosto si svolgerà la diciassettesima edizione del corso estivo di formazione teologico-pastorale per laici, organizzato dall'Unione della Facoltà Adventista di Teologia. Per due settimane i laici corsisti torneranno sui banchi di scuola per seguire non solo i corsi teorici, ma anche per scambiarsi esperienze, pregare, meditare e approfondire temi importanti grazie alla ben fornita biblioteca. Come fare per partecipare? Occorre parlarne con il proprio pastore. Se vuoi ancora metterti in gioco, se vuoi imparare per servire, questo progetto di formazione fa per te. Scrivici all'email info-villaaurora.it oppure telefona allo 055 41 2014. Grazie per averci seguito e arrivederci al prossimo appuntamento e buon sabato a tutti.